E' Barbara, mia figlia. Ma non è più una signorina, ora è una donna sposata. E chi è il suo marito? Il sostituto procuratore Antonio Magnano e la sua gentile consola. Dottor Magnano? Molto piacere. Incantato, signora. Molto lieta. Ma voi proprio non vi ricordate di me? Eppure io mi ricordo molto bene di voi. Il vostro padre è da tanti anni l'amministratore di fiducia della mia famiglia. Ah, non lo sapevo. Sentite, Monsignore. Le iscrizioni alle dombe di famiglia mi sono sembrate un po' sbiadite. Se poteste occuparvi voi di farle restaurare, ve ne sarei davvero grato. E va bene. Vediamo se non avete detto una bugia. Che cosa vi ricordate esattamente? Allora. Io mi ricordo che un giorno accompagnai mio padre nello studio del vostro. Per certe questioni che ora mi sfuggono. Eh, però lo vedete, non siete precise. Beh, che c'entra? Le questioni mi sfuggono. Mentre voi siete stampata nella mia testa. Grazie, signor Duca. No, niente Duca. Solamente Fabrizio. Va bene. Fabrizio. Barbara, Barbara, vi prego. Aspettatemi. Barbara. Questa è la dichiarazione che mi ha firmato vostro padre. Avete ragione. Quel giorno quando vostro padre è venuto a parlarmi, io non avrei dovuto ascoltarlo. Lo avrei dovuto mandare via. Ma i sentimenti che provo per voi mi hanno impedito di farlo. Ora non esiste più alcun debito. Spero che almeno questo basti a non farvi più subire pressioni di alcun tipo. Vi auguro la felicità che meritate a voi, a vostro marito. Siate felici, Barbara. Anch'io vi auguro di essere felice.